Qual è il segreto per arrivare così a 94 anni? Non mollare mai, non mollare mai, io non ho mai mollato. Lavorato 24 ore su 24 in autostrada, 24 ore su 24, per 365 giorni dell'anno. Di fermarsi non ha alcuna intenzione, così alla soglia di 94 anni è ancora un meccanico in piena attività. Da poco addirittura gli hanno anche rinnovato la patente e così ogni giorno con il suo carattrezzi va a soccorrere le auto in panno. Fabio Sabbioni, classe 1927, infatti nonostante l'età da pensione sia già arrivata da un pezzo, ogni giorno continua senza sosta il suo lavoro nell'officina di Arezzo, tra motori, sospensioni ed avviamenti. Sì, eccomi qua. Una partita io ce l'ho io ancora. Una passione, quella per i motori, che nasce da lontano e che in tempo di guerra lo portò anche a lavorare per gli inglesi. Andavo a scaricare le munizioni con gli inglesi, abitavo a Spojano. Poi un'officina tutta sua e il soccorso stradale lungo l'autostrada. Io da qui arrivavo in autostrada prima dell'ambulanza qualche volta. Nemmeno la pandemia da Covid-19, che ha colpito pesantemente intere generazioni di anziani, adesso è riuscita a fermarlo. Non ha paura del Covid, la vediamo a lavorare. Io ho fatto i tamponi e l'altro, tutto regolare. Un mestiere, insomma, che Fabio Sabbioni porta avanti da decenni e forse è proprio questo il segreto per mantenersi in splendida forma. E non smetterà mai di lavorare? Fino alla morte. Mia mamma diceva, noi non si muore nel letto, si muore nel campo. Se qua lavoravo la terra, allora.